E la sera di nuovo non riuscivo a dormire. Allora presi in mano un opuscolo informativo e iniziai a leggere. In quel momento accadde il miracolo. Peter, adesso vengo da te. Ecco un autentico bavarese impiegato in una grande industria. Nella tua vita non conoscevi altro che successi, grandi prestazioni, carriera, l'ascesa, la presidenza del circolo di tennis, della squadra di calcio responsabile di settore. Dicevi, tutto quello che faccio va bene e quando inizio qualcosa mi riesce sempre. Qualsiasi cosa voglio e faccio va a finire bene. Giusto. Ma poi arrivò una situazione che non avevi previsto. Esattamente. Quando guardo indietro alla mia vita mai avrei pensato che Bruno Gröning, morto nel 1959, un giorno mi avrebbe salvato la vita. E in realtà molto di più, perché mi ha fatto scoprire valori completamente diversi. Ora la vita è davvero bella. Come dici tu, ho avuto una vita meravigliosa. A scuola non ho dovuto studiare quasi nulla, sempre il primo della classe. Successi sportivi a tennis da tavolo, tennis, sci, campionati di calcio. Tutto è andato alla grande e anche al lavoro. Quasi non ho dovuto fare niente, sempre su per la scala della carriera, sempre abituato al successo. Nel 1991 incontrai la donna dei miei sogni, Gabi, con la quale sono ancora oggi felicemente sposato. E poi pensi, tutto è così facile nella vita? Di cosa si lamentano gli altri? Fino a quando nel 2000 arrivò nella mia azienda un nuovo collega che speculava sul mercato azionario. Faceva investimenti abbastanza rischiosi sui dollari, sugli yen, sulle lire italiane che c'erano all'epoca. Diceva che era facile, avrebbe fatto un sacco di soldi e certamente non avrebbe dovuto lavorare ancora per molto. Ero abituato al successo, non sapevo cosa volesse dire perdere, quindi ho assecondato la cosa. Gli investimenti erano sempre più rischiosi, con prestiti e elevati che la banca ci concedeva. Poi arrivò il giorno in cui il fallimento si impadronì di me per la prima volta. Un lunedì del 2000 ha persi mezzo milione di marchi sul mercato azionario. Per me era come denaro finto per giocare. Non sapevo nemmeno cosa mi sarebbe potuto accadere perché il concetto di perdere non esisteva nella mia vita. Persi il denaro per giunta proprio nel giorno in cui andai in pellegrinaggio al santuario della Madonna di Althöting. E questo mi sconcertò completamente. Così pensai tra me e me di interrompere la connessione con Dio. Di solito pregavo, andavo in chiesa, ma quel giorno pensai, se Dio permette una cosa del genere vuol dire che si prende gioco di me. Questo è stato il mio più grande errore. Poi ho sperimentato per nove anni com'è quando non sei più nella connessione con Dio e pensi di poter gestire tutto da solo. Così il fallimento di quel lunedì, quella perdita, la famiglia sprofondata nei debiti, tutto questo non riuscivo a togliermelo dalla testa. Questo ti ha gettato in un baratro perché improvvisamente hai sperimentato per la prima volta una perdita, il fallimento. Il tuo stato d'animo è cambiato. Tutto ruotava sempre e solo su quei soldi. Cos'è successo in te in quel periodo? I primi giorni pensavo solo si trattasse di un incubo. Pensavo, mi sveglierò domani e questo non è successo. Ma purtroppo era successo. È proprio successo. E come ho detto, quella sensazione di essere un fallito era terribile. E pensavo veramente di averlo scritto in fronte. Un tale buono annulla quel Peter. È un fallito, non abbiamo bisogno di lui sulla terra. Non riuscivo più a dormire. È così che è iniziato tutto. Nel momento in cui mi coricavo per dormire, i pensieri cominciavano a turbinare. Come si poteva annullare tutto ciò? Avevo debiti di ben oltre 100.000 marchi. Non si può cancellare tutto così facilmente. Non riuscivo più a dormire. Ci volevano due o tre ore per addormentarmi. Non dormivo tutta la notte perché continuavo a svegliarmi e la mattina ero completamente esausto. Avevo sempre un mal di testa come se avessi un'ascia conficcata nella testa. Gli antidolorifici non aiutarono. Quando mangiavo qualcosa, il mio stomaco spesso non lavorava. Sembrava al settimo mese di gravidanza. Avevo bisogno di frequenti flebo e a volte mi veniva dato il valium o dovevo andare al pronto soccorso. Sindrome delle gambe senza riposo. RLS. Sempre con dolori alle gambe. Prima ero sano e avevo una vita armoniosa e felice. Da quell'anno andavo dal medico di base e da tutti i tipi di medici per 30-35 volte all'anno. E tutti mi dicevano la stessa cosa. Veramente non troviamo nulla. Allora rispondevo sì, va bene, ma io sto male. E nel 2005 raggiunsi il culmine. A quel punto ero in pessime condizioni tanto che non ero più in grado di vivere. Poi andai in una clinica per malattie psicosomatiche per otto settimane. Un passo difficile che comunque non mi aiutò. Le cose peggiorarono. Ogni speranza mi aveva abbandonato. Dopo tanti medici e un periodo in clinica. Adesso che faccio? Ma mi hai detto, prima di questa registrazione, che pensavi anche che fosse colpa degli altri. A casa, al lavoro, tutti ti davano fastidio. Perché pensavi di aver la scritta perdente sulla fronte. E sei anche isolato, ritirato. Sì, giusto. La fiducia in me stesso era a terra. E pensavo sempre che fosse colpa degli altri. Perché in quel periodo in cui stavo male, c'erano discussioni con tutti. Sempre a litigare al lavoro, al circolo sportivo, in famiglia. Non potevo più sopportare nessuno. Sopportavo solo una persona, grazie a Dio. La mia cara Gabi. Un angelo che mi ha sostenuto. Non mi ha mai rimproverato in tutto quel tempo. In realtà lei vedeva ancora dei lati positivi in me. Io non vedevo più niente di buono in me. Ero in una situazione tale in cui non funzionava più niente fisicamente e psicologicamente. Avevo solo debiti, discussioni e conflitti. C'erano giorni in cui volevo solo farla finita. Ma sono stato salvato. Non era più vita. Vegetavo solamente, si può dire. Eri praticamente a terra. Sì, e Gabi mi ha sostenuto in quei momenti. E nove anni più tardi... Va detto esplicitamente che questo calvario è durato nove anni per quell'unico azzardo. Sì, perché nei miei pensieri era successo qualcosa. Oggi so che ero io a condannarmi, non gli altri. Chiunque fa errori nella vita. Un giorno una parente dell'Austria, che era già nel circolo degli amici di Bruno Gröning, mi invitò a vedere il film documentario Il fenomeno Bruno Gröning. Mi disse, Peter, questo potrebbe aiutarti. Guardando il flyer pensai, ok, è morto nel 1959, mai sentito. Inoltre il film è lungo 5 o 6 ore e non avevo le forze. Così menti e dissi, non possiamo venire, abbiamo da fare tante cose. Ma lei continuava a invitarmi una seconda, una terza e una quarta volta. E la quarta volta non avevo più scuse. Allora dissi a mia moglie, ora ci andiamo, almeno Maria ci dà tregua, altrimenti torna sempre con questo invito. Beh, non pensavo che potesse succedere qualcosa. Ma nel trailer iniziale di uno dei tempi qualcosa mi colpì. I ciechi vedono di nuovo, gli storpi camminano di nuovo, i feriti di guerra guariscono dalle loro ferite. Così pensai, se questo è vero e perché non dovrebbe esserlo? Allora c'è speranza anche per me. Prima andava tutto a rotoli, poi sono stato a terra per nove anni e improvvisamente quel giorno ritorna di nuovo la speranza. Forse esiste qualcosa. E pian piano ho approfondito l'insegnamento di Bruno Gröning. Facevo Einstein due volte al giorno, assorbivo questa forza e partecipavo alle ore di comunità del circolo degli amici. Ma non era ancora cambiato nulla. C'erano solo un po' di speranza e un po' di fede nella mia testa e avevo ripreso a pregare. Poi ad aprile dello stesso anno un altro amico di Bruno Gröning mi portò a 20 opuscoli con testimonianze di guarigione e rapporti di successo scritti dagli amici. Di questo ne avevamo appena parlato. Le testimonianze vengono anche documentate e pubblicate. Mi arrivarono 20 di questi opuscoli e pensai sarà pure bello ma ho già letto abbastanza. In realtà vorrei essere guarito. Li misi in camera da letto quel sabato di aprile e la sera di nuovo non riuscivo ad addormentarmi. Pensavo tra me, prendi il primo opuscolo informativo e cominci a leggere. E allora accadde il miracolo. Di solito mi ci volevano due o tre ore per addormentarmi. Lessi solo mezza pagina e poi senti una strana pace, una sensazione di felicità e mi addormentai. Per la prima volta in nove anni mi addormentai subito e dormi senza interruzioni. Non era mai più successo. Il giorno dopo mi svegliai e senti qualcosa di diverso. Ero pieno di energia e di voglia di fare. Ero felice e allegro. Durante la notte dovevo essere riuscito a perdonarmi e a ritrovare l'amor proprio. Tutto quello che era stato sembrava cancellato e io ero pronto per una nuova vita piena di energia. Mia moglie Gabi, notando il mio sguardo, mi disse Peter, sei radioso come un tempo. Devi aver ricevuto la guarigione. Ed era proprio così. Non sono un medico né un farmacista, ma è incomprensibile per me che quello che i medici hanno cercato di curare in nove anni di sforzi sia scomparso da un giorno all'altro, in quella notte. L'ho sperimentato e non posso che raccomandare questo cammino a tutti. E questa è anche la mia motivazione ora, il motivo per cui aiuto qui volontariamente. Perché spero che tutti possano trovare semplicemente la propria strada. Come ha detto la dottoressa, la causa della malattia è nell'anima. Quando guarisce la causa, come questa sensazione di fallimento nel mio caso, allora possono succedere molte cose. Grazie a tutti.